E' vero quelle mani del campo, fate di fianco rosso, e torno è un orgoglio profondo, solo di rosa che trovo il nostro, vince grano e non un stadio, a chi fai male meno male, un batte fa ci sognare, un rosa che possa finir, oh 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 Benvenuti a studio Biancorosto, un saluto da Gianni Veronesi e Andrea Gabbi, buona settimana Gianni. Buona settimana Andrea, questo è il podcast dedicato al Mantua 1911 in collaborazione con Gazzetta di Mantua e Tele Mantua. Avvertenza, disclaimer, come dicono quelli bravi il podcast, forse lo ascolterete quando già avrete appreso dalle fonti ufficiali e dalle nostre pagine social il calendario di Supercoppa, ma noi l'abbiamo registrato lunedì mattina e quindi non parleremo di chi giocherà il 5 oppure il 4 maggio, di chi riposerà, della trasferta Cesena o Castellamari di Stabia, eccetera, eccetera. Tanto dovevamo, però oggi è previsto il sorteggio, non so bene a che ora, non so se tu Andrea hai informazioni. Nel pomeriggio. Nel pomeriggio, ecco. Io parlerei però adesso del campionato che si è concluso ieri, 80 punti, è un po' la cifra del miracolo biancorosso, un miracolo che va analizzato nel suo complesso, anche se fa strano parlare di un Mantua che non è più riuscito a vincere dal 18 marzo. D'altra parte questo mese di aprile che si è concluso, o meglio che si va a concludere, ma ormai calcisticamente è concluso, è stato il mese della festa. Uno a uno con l'Egnago, se pensiamo all'uno a uno con cui si era aperta l'avventura con il Padova, quella era solo la premessa e la promessa di un buon campionato, ma è stato molto più di un buon campionato, direi. Mi sembra abbastanza chiara questa fotografia che hai fatto, Gianni, abbiamo stradominato, tant'è che è un mese che festeggiamo, punto. Tutto il resto non conta, o meglio, non conta. Conta in maniera, conta in base a come lo si legge. Secondo me, partiamo dal Legnago, dalla partita con il Legnago, secondo me il Mantua ha fatto una buonissima partita e la cosa che mi ha fatto più piacere è aver rivisto il Mantua attento. Alla fine non abbiamo concesso nulla a livello di sbavature difensive. Il gol oggettivamente nasce da una situazione estremamente casuale, perché c'è una sorta di cambio campo di un giocatore del Legnago che non sa neanche lui come lo fa, innesca l'azione. Poi oggettivamente Rocco fa un gran gol, perché la mette proprio nell'angolino basso. Ogni tanto bisogna anche fare gli applausi agli altri quando fanno delle gran belle cose, ma al di là di questo poi il Mantua ha fatto una parita in gestione totale, possesso palla imbarazzante. Non ha avuto tantissime occasioni da gol, ne ha avute un paio nel primo tempo, bravo Tosi a opporsi due volte a Bragantini. Oddio, se si opponeva anche l'anno scorso magari non retorcedevamo, ma questo è un altro paio di maniche. Nel secondo tempo abbiamo dominato sprecando un paio di buone incursioni dopo aver fatto il pareggio bellissimo con Muroni. Questa qua è stata la partita, ci sta secondo me. Ti ripeto, io quello che mi premeva di più dopo aver visto il Mantua con Vicenza e con Lumezzano era quantomeno rivedere una squadra che c'è dal punto di vista della testa, nella gestione del nostro palleggio e nel concedere errori. Ieri oggettivamente, ieri domenica con Legnago non ne ha concessi. Questo mi fa ben sperare in ottica Supercoppa. Supercoppa che ovviamente, come stavi spiegando tu, non sappiamo ancora con chi giocheremo nel momento in cui adesso stiamo registrando il podcast. In questo momento, lo dico ai tifosi biancorossi, siamo un po' in sala mensa come Fantozzi, sperando fondamentalmente di non dover andare a Castellammare, perché comunque dal nostro punto di vista lavorativo sarebbe una trasferta impegnativa. Dall'altro punto di vista inizierebbe a prepararci a quello che ci aspetta l'anno prossimo, quindi vabbè, ci può anche stare. D'altra parte Castellammare è anche più vicino al mare rispetto a quanto non lo sia cesso, Cesena, vabbè che Cesena comunque ti permette di fare una gita ugualmente. Posso dire, Gianni, una cosa? A me il mare non mi piace, proprio non mi è mai piaciuto. Io amo la montagna, sono un montagnino proprio nato e quindi, guarda, francamente non sono in estasi ad andare né da una parte né dall'altra. Andrei volentieri a sfidare su Tirol, sinceramente. Magari ne parleremo quando sarà il momento del ritiro estivo che ancora non sappiamo dove sarà. No, sarà in Trentino, però questo non possiamo dire. Lo ha detto la società, non ha ancora svelato dove, anche perché credo che non abbia ancora proprio chiuso i contratti, stanno valutando varie opzioni, ma dovrebbe essere in Trentino e poi forse, ma non è detto anche questo, una seconda parte di ritiro ancora a Veronello. Però il grosso del ritiro dovrebbe essere in montagna quest'anno. Interessante, ecco, mi viene in mente il periodo di Brentonico. Bellissimo, bellissimo. Ieri anche Massimo Donati, allenatore dei Veneti, ha tessuto le lodi del Mantua. Forse a fine un po' meno, diciamo, rispetto a Legnago, ha detto che loro hanno rinunciato a giocare. Sì, direi però che nel primo tempo, prima del gol, il Legnago si era affacciato più di una volta dalle parti di Sonzogni, senza peraltro metterlo in grandi difficoltà. Però sono d'accordo con Pustanzini, francamente, perché questi non hanno proprio giocato. Tant'è che di solito, se non sbaglio, è una squadra che spesso gioca a tre dietro, è molto più sparagnina, è anche molto più aggressiva. Francamente, sì, si è fatta vedere, ma è stata oggettivamente una partita come tante ne abbiamo viste quest'anno, cioè una partita di dominio totale. Per assurdo, io all'andata li ho visti meglio, li ho visti nettamente meglio, ci hanno messo più in difficoltà. Va detto, però, che tanti giocatori del Legnago, anche di qualità, non sono entrati in campo o sono entrati nel corso della ripresa, insomma, nello slot finale di cambi. Perché? Perché il Legnago comunque si è qualificato a sorpresa ai play-off e quindi donati, giustamente, li ha risparmiati in vista delle prossime partite. Segnalo, perché io non sono uno di quelli che, come dire, si nasconde dietro un dito oppure mette la polvere sotto il divano che io avevo messo il Legnago a inizio anno come possibile ultima in classifica, retrocessa direttamente, e invece ha fatto i play-off. Questo ti dice, intanto, che io non capisco niente, uno, e due, che hanno fatto veramente un campionato eccezionale questi, perché veramente giù il cappello. Tre, che sei una persona onesta, che poteva magari stare tutta e non dire nulla, che nessuno magari se ne frega. Abbiamo fatto una griglia di partenza a inizio campionato in cui avevamo espresso un po', come dire, a bocce ferme le nostre valutazioni. Oggettivamente, guardate la rosa del Legnago, qualche giocatore buono effettivamente c'era discreto, ma star lì a paragonarlo ad altre, cioè era veramente una squadra che era destinata, insomma, a grossi difficoltà. In realtà non è stato assolutamente così ed è merito anche dell'allenatore, perché comunque è una delle due, tre squadre che contro di noi comunque ha giocato a calcio. Parlo della parita di andata, quando insomma c'era ancora tanta carne al fuoco. Quindi veramente giù il cappello, per una volta mi sento di dirlo, perché con poco hanno fatto tanto, ma come la Gianna Arminio, perché anche queste hanno fatto un miracolo sportivo. Eh sì, ricordiamo, poi magari lo faremo più tardi, gli accoppiamenti dei play-off con la Gianna Arminio, vi anticipo che incontrerà la Pro Vercelli. E comunque seguiremo con interesse, perché in fondo questo è stato anche il nostro campionato, anche quello che succederà alle altre. Ma io volevo andare a tornare sulle tue pagelle che sono apparse oggi sulla Gazzetta di Mantova. Muroni migliori in campo, a tuo giudizio, a parte la ciliegina del gol, molto bello, tra l'altro il quarto stagionale di Muroni, l'ultimo di questo campionato, perché poi passerà una cosa a parte. Voto 7, quello che hai dato. Bene Viser Terzino, ecco l'esperimento di giornata di Possanzini da quella parte, dove purtroppo non ci sono più i due titolari infortunati. Sonvogni, nessuna colpa sul gol, per il resto un paio di parate comode, poi spettatori in campo nella ripresa e Galupini un po' poco per il tanto che ci ha regalato nella stagione. Sì, sì, quello che ho registrato ieri è un po' questo. Mi è piaciuto Viser, adesso vorrei tornare proprio su questo discorso, perché chiaramente stiamo facendo un po' di necessità virtù in questo momento, perché giustamente, come vi ho appena detto, sia Maggioni che Radaelli sono out e credo che alla fine della fiera lo saranno anche in Supercoppa. Maggioni sicuro, Radaelli c'è una minima speranza, ma credo che è una speranza che si spegnerà presto e quindi anche lì comunque prepariamoci, perché in Supercoppa dovremmo fare, il mister dovrà fare delle scelte anche un po' coraggiosi. Secondo me quella di Viser è la migliore, perché è un ragazzo intelligente, a gamba, e sa gestire comunque un ruolo non suo, con una buona intelligenza. Più di Fedele, ma non per un demerito di Fedele, perché secondo me Fedele è più un torello da centrocampo, una mezzala che è brava a mordere le caviglie, più che uno, un terzino che sa comunque accompagnare l'azione. Questa è proprio una mia visione tattica, poi magari mi sbaglio, però tra i due francamente scelgo Viser basso e magari mi tengo Fedele come vice di uno dei centrocampisti in corso d'opera in queste partite, anche perché, comunque attenzione, perché adesso finalmente credo sta esplodendo la primavera e anche un po' il caldo. I giocatori come Fedele e come lo stesso Viser saranno molto utili in queste due partite, perché quando le temperature cambieranno ci sarà anche da sudare di più e non sarà semplicissimo. I giocatori che hanno gamba tornano molto utili. Vorrei tornare tra l'altro sulla scelta di Possanzini di schierare Muroni, una scelta non dico coraggiosa, ma con un minimo rischio, perché ricordiamo che Muroni era diffidato insieme all'altro, mi pare fosse Galupini, ma Possanzini non ha tenuto conto e non ha fatto nessun calcolo relativo alla Supercoppa e poi alla fine ha avuto anche ragione nel caso di Muroni che ha trovato il gol. Magari gli avrà detto di non eccedere magari in agonismo e non prendere un giallo che sarebbe stato fastidioso a questo punto. Poi invece l'agonismo ci hanno ecceduto loro, più che altro il Legnago, perché anche questa squadra comunque, ma è giocoforta che sia così, quando decidi comunque di rinunciare a giocare o quantomeno fare una proposta e stai a guardare il nostro palleggio e provi a rubare palla è normale che diventi anche un po' più cattivo. Sono stati abbastanza fallosi, l'arbitro ha lasciato correre un po' troppo secondo me ieri e per assurdo hanno rischiato più loro in quel senso di Muroni, è stato molto intelligente, anche lì mi ha stupito Possanzini perché io non l'avrei mai fatto giocare Muroni nella condizione in cui era, cioè di diffidato, però ha avuto ragione lui anche perché uno non è stato munito e due ha fatto il gol del pareggio, quindi è stato decisivo, quindi per l'ennesima volta confermiamo che Possanzini su queste cose qui ci vede, ci vede anche lontano, poi anche fortuna, sai, un'ammunizione può anche scappare, un mezzo tocco di mano, un fallo stupido può succedere sempre. E in Supercoppa, coraggimi se sbaglio, le ammunizioni si azzerano. Esattamente, esattamente. Vorrei adesso parlare un po' del pubblico, anche ieri atmosfera di grande festa, anche se non c'è stato tutto esaurito, tranne che nel settore della Curvate, che tra l'altro ha esposto uno striscione coltissimo ieri, referantivi Mantua Palmas, a te Mantua attribuirò le mie glorie, è un passo del libro terzo delle georgiche di Virgilio, niente meno. Anche qui, oggi probabilmente ho sempre il cappello in mano perché io ho fatto studi classici, ho fatto lettere e quando sono arrivato allo stadio, zero, non avevo idea di cosa fosse quella scritta, sono dovuto andare, penso, come il 99,9% dei tifosi presenti su Google a cercare che cavolo volesse dire. Devo dire, è stata una citazione bellissima, molto, molto alta. Eh sì, anch'io su Google, dopo ovviamente sono andato a bullarmi dappertutto dicendo che erano le georgiche. Sono andato anche a vedere il verso successivo, che è molto interessante e quasi profetico, e te lo cito, et viridi in campo templum de marmore ponam, cioè in verde prato maestoso innalzerò là un tempio di ricchi marmi. In pratica parla dello stadio. Esatto, infatti potevano andare avanti, mettere anche quella frase lì, il problema è che si arrivava fino in Cisa praticamente dopo se la scrivevi tutta. Ecco, a proposito dello stadio, cominceranno i lavori molto presto, è chiaro che la società non può influenzare il sorteggio e riscaldare una pallina anziché l'altra, però credo che l'interesse del club sia quello di giocare magari la prima in casa, proprio perché il cantiere è imminente, sta per partire. Maggio, il comune ha detto che è l'inizio maggio, l'inizio dei lavori, e quindi sì, sono d'accordo con te, credo che speri di giocare subito la prima, magari domenica in casa in modo tale da lasciare poi libero il campo ai lavori di ristrutturazione che oggettivamente dovranno correre, perché comunque da fare ce n'è, intanto da vedere come la situazione sotto i distinti, che secondo me è terribile, ci sarà molto da lavorare lì, e poi dopo tutto il resto, cioè l'impianto luci, cioè la ristrutturazione della casetta che c'è praticamente dietro, vicino alla zona delle caldaie e degli spogliatoi, per intenderci. La casa del custode, che non c'è più, hanno creato molti anni, credo, un custode lì. Esattamente, lì ci sono un po' di uffici, di segreteria per quanto riguarda il settore giovanile, lì diventerà la mixed zone, però insomma c'è da fare, perché sono tutti i lavori che la Serie B impone e quindi dobbiamo farli. Ci sarà la partita comunque del cuore il 25 maggio, ma è chiaro che non si deve rispondere alla Lega Pro e quindi anche se ci sarà il cantiere aperto, così ci avevano assicurato, la partita si potrà disputare tranquillamente con vecchi glorie del Mantova, giornalisti di Sport Italia e altri personaggi che si aggiungeranno insieme naturalmente alla Nazionale d'attori. Ecco, questo è un altro appuntamento, probabilmente l'ultimo allo Stadio Martelli, seppure non ufficiale, il 25 maggio. Volevo tornare invece all'ufficialità, cioè agli accoppiamenti play-off, un post-campionato che forse slitterà, perché alle 12.30 c'è il consiglio direttivo straordinario e si parlerà anche di questo e gli accoppiamenti sono Atalanta Under 23-30, Legnago Lumezzane, ne parlavano ieri appunto gli amici di Legnago in sala stampa, è un precedente che si ripete, e Gianerminio Provercelli. I play-out in realtà uno solo, Novara-Fiorenzuola, perché indi oltre all'Alessandria scende anche la Pro Sesto. Mi spiace per la Pro Sesto sinceramente, ma sai perché? Ma non tanto perché non ho amici a Sesto San Giovanni, però mi spiace perché se ne va comunque una piazza che in Serie C ci sta tutta, in quanto proprio piazza, in quanto squadra con un minimo di seguito rispetto a tante altre che con tutto il rispetto in Serie C ci sono un po' per caso e hanno un seguito nettamente minore. Io sono per le piazze vere nel calcio vero, mi spiace un po' per la Pro Sesto perché comunque anche ieri ho visto un po' di immagini, c'era il derby con la Pro Patria che per loro è molto sentito e insomma il pubblico aveva risposto a Sesto San Giovanni ecco, dopo per carità Morstu a vita mea, visto che siamo in tema di latinismo, però un po' mi dispiace. Secondo me rischia grosso chiaramente il Fiorenzuola perché Novara comunque poi c'ha anche il vantaggio del doppio risultato a favore la squadra piemontese e invece per i play-off secondo me c'è più equilibrio di quanto non lo dicono gli scontri che si sono venuti a creare perché tolto il Vicenza che chiaramente poi va a turni successivi e ovviamente anche il Padova e pure la Triestina, le altre secondo me sono tutte in totale equilibrio e quindi ci sarà molto a bagarli nel nostro girone intendo. Poi occhio perché dopo andranno a scontrarci anche con gli altri di Gironi e lì secondo me la qualità sale. Infatti sono curioso di vedere cosa farà il Vicenza e il Padova quando poi entreranno in gioco anche le big del girone B ma soprattutto del girone C perché faccio un esempio, si è salvata e quindi non è finita nei play-out il Catania, si è salvato il Catania e Catania quindi accede poi alla fase finale play-off perché ha vinto la Coppa Italia. Il Catania guardate la formazione è una signora squadra, cito soltanto un giocatore, Zammarini, un giocatore che fino all'altro ieri faceva la Serie B di tacco, ecco. Cioè ci sarà veramente tanto da dover lottare per Vicenza e Padova per esempio per provare a raggiungerci in Serie B. Per quanto riguarda la Serie B che verrà, io qui ne parlo con molto pudore perché se dobbiamo basarci sui verdetti ufficiali oltre al... Beh praticamente ci sono soltanto due o tre squadre che sono sicure. Noi, la Juve Stabia, il Cesena e la Salernitana. La Salernitana, esattamente. Esatto, perché io non vorrei gufare, so benissimo che ci sono altre squadre molto pericolanti in Serie A e squadre in Serie B che difficilmente faranno play-off o play-out però io non le chiamo in causa perché aspetterei insomma il verdetto ufficiale. Quindi al momento diciamo sono quattro sicure di fare la Serie B. Ma noi andremo avanti Andrea con i podcast credo ancora abbastanza lungo per poter comporre questo mosaico della Serie B. Sì, sì, comunque insomma faremo delle puntate relative alla Supercoppa e poi questa è una novità, in estate una tantum magari per aggiornare anche sul mercato che fra un po' sono fra un bel po' però fra nemmeno tanto impazzarà, insomma interverremo anche noi col podcast, chiaramente lo pubblicizzeremo e lo faremo sapere insomma in modo tale da non così da non essere una chimera, una sorpresa ma sì faremo delle puntate e analizzeremo anche l'evoluzione come dicevi tu della Serie B che sarà perché è tutta ancora da scrivere e da decidere. Poi con lo slittamento molto probabile dei play-off di Serie C ci andrà veramente lunghi quest'anno. Titolo provvisorio spiaggia bianco-rosso oppure malga bianco-rossa. Esatto, bravo, bravo, grazie. Mi fa molto piacere questa cosa, bravo. Allora, chicca storica e io non vedevo l'ora di tirarla fuori. Sì, questa volta vorrei parlarvi e parlarti di chi è la nostra bestia nera e di chi noi siamo la bestia nera. Non so se l'ho detto in corretto italiano, comunque... Sì, vabbè, ci siamo capiti. Ecco, ci siamo capiti. Tra le squadre però di rango più alto, cioè non sto parlando con tutto il rispetto di tante squadre che non ci hanno mai battuto, tipo non so, il Moncalieri, la Vibonese per esempio, ecco però non possiamo considerarci noi bestie nere perché le abbiamo incontrate occasionalmente. Vorrei parlare appunto dei club di un certo prestigio. Secondo me quello di maggior prestigio che non ha mai battuto il manto e ha fatto fior di campionati, sai qual è? Non so, se vuoi ti faccio il quiz oppure lo dico direttamente. Allora, dimmelo, dimmelo. Non ci arriverò mai? È l'Avellino, l'Avellino. I precedenti non sono molti, sono solo sei, però tre vittorie bianco-rossie e tre pareggi. Poi ci sono altre squadre che ci soffrono, per esempio il Palermo ci ha battuto soltanto una volta in campionato. Parlo, attenzione, di campionato e non di Coppa Italia perché qualcuno ricorderà che negli anni 90 abbiamo incontrato il Palermo in una Coppa Italia in Serie C e ci ha battuto sia l'andata che al ritorno. Ma io mi riferisco in questo caso solo al campionato. Noi due vittorie e loro una, quindi siamo in vantaggio nei precedenti, però. Avellino e Palermo sono entrambe squadre che potremmo incontrare l'anno prossimo perché il Palermo potrebbe fare i play-off, ma non è detto che li vinca e quindi non è detto che vada in Serie A. L'Avellino comunque si giocherà i play-off di Serie C e quindi ha le sue chance per poter salire in Serie B. E magari sfatare, speriamo di no, questa tradizione. Invece una squadra che non incontreremo sicuramente ma è una bestia nerissima, forse la bestia più nera del Mantua, è il Bologna. Attenzione, 30 precedenti, una sola vittoria, la prima nel 1921. Pensa a te. Poi solo amarezze anche relativamente recenti e non è il caso di ripercorrere tutte, però alcune veramente hanno avuto il loro peso. Ma sai in tema di Bologna, io mi sono sempre chiesto, tu hai i capelli un pelo più bianchi dei miei, anzi oggettivamente parecchio. I pochi che sono rimasti sono molto più bianchi dei miei. Ma perché? A chi venne in mente la malsana idea nel 1993-1994 di fare lo striscione Oggi vinciamo noi a Bologna? Cioè ma come si fa? Io mi sono sempre chiesto, vedendo le foto di quel muro umano di 5.000 più o meno tifosi di Mantovani a Bologna, tra l'altro ovviamente parita persa, ma come si fa? Perché? Chi è che ha partorito quello striscione assurdo a livello scaramantico? Tra l'altro 8 maggio 1994, data indaleibile per tanti di noi, sono stato anche leggermente strattonato da tifosi del Bologna, i quali pretendevano che io aprissi uno zaino perché volevano controllare se dentro c'era una bandiera o uno striscione o una sciarpa bianco-rossa. Ah quindi tu eri a Bologna quel giorno? Io ero a Bologna, ecco, però non ero un bambino ma io ho visto mille volte questa famosa foto che è abbastanza iconica di questa trasferta e questo noi oggi vinciamo noi mi è sempre rimasto lì, ma come si fa ad andare in trasferta con uno striscione così? Adesso invece ti dico le squadre che noi non abbiamo mai battuto, per esempio tra le grandi squadre, ebbene, il Mantova non ha mai battuto la Lazio e questo significa un'altra cosa, che lo stadio olimpico non l'abbiamo mai espugnato perché noi abbiamo sì battuto la Roma ben quattro volte, però sempre al martelli e quindi olimpico è inviolato e lo sarà ancora per un pezzo, speriamo. Un paio d'anni, un paio d'anni. Nota personale, a che non ti interesserà, sono nato il giorno di una trasferta del Mantova all'Olimpico e questo dà un po' di idea dell'età che potrei avere. Roma-Mantova è uno a uno, con udienza tra l'altro del Mantova il giorno prima dal Papa e non dirò che Papa era. Perché non lo vuoi dire? Non ho capito cosa c'è? No, non lo dico perché altrimenti uno fa i conti e si fa... Ah, ok, ok, ok. Vabbè, era Paolo VI, ecco. Pensavo più decimo, se quelle cose tipo leone... Sì, vabbè, allora, leone tredicesimo. Ecco, devo dire un paio di cose. Vai. Numero uno, il 3 maggio in edicola, non perdete la gazzetta perché ci sarà uno speciale di 40 pagine sulla promozione del Mantova, è molto molto bello, ricco di anedoti e curiosità e poi ci sono un paio di chicche da conservare, lo posso dire, c'è un poster un po' particolare al centro, molto molto bello di quelle cose che si ricordano. Ma lo stesso giorno, in serata, correggimi se sbaglio, ci sarà la messa in onda dello speciale docufilm su Telemantova, sulla stagione del Mantova. Mantova in B, il film in onda in prima visione tv alle 21.10 su Telemantova, veramente la storia per immagini della stagione, dalla retrocessione alla gloria, ecco. Quindi, ma quanto dura? Io non lo so. Dura circa un'ora e dieci, in denso di immagini con interviste inedite a personaggi che hanno fatto la storia di questa stagione, da Possanzini a Botturi a Burrai e vi consiglio davvero di non perdervelo. Poi ci saranno altre messe in onda, per esempio il lunedì al posto di Calciomania, Calciomania finisce stasera, il nostro settimanale del lunedì, lunedì prossimo alle 21.10 ci sarà la replica del film e poi altre messe in onda che potrete conoscere, magari consultando il sito di Telemantova, ma anche quello della Gazzetta. Termina qui allora il nostro podcast, grazie a te Andrea, grazie ai nostri ascoltatori. Studio Bianco Rosso torna lunedì prossimo. Studio Bianco Rosso